Sempre la seta per via della cervicale. Allora il racconto di oggi è il fallo delle vanità tra realtà virtuali e realtà reali. Leggo sul Corriere che Antonella Clerici odia le persone vanitose ed è curioso che sia detto proprio da lei la quale è sempre sui giornali patinati, sulle copertine, a raccontarsi, a farsi bella dei suoi amori, del suo ricco nuovo futuro marito, della sua casa nel bosco. Insomma è sempre lì a raccontarsi, a mettersi in bella vista, in bella mostra, a dire a tutti gola gola guardate io come sono fortunata. Insomma questo per dire che la parola vanità è una parola molto soggettiva. Comunque è vero che la vanità è un difetto, un difetto abbastanza a volte anche fastidioso, però qualche volta la vanità paga. Insomma darsi un po' di arie, tenersi un po' su eccetera, non sempre è un brutto difetto perché a volte paga, paga anche molto bene. Guardiamo per esempio una città come Parma, una piccola città di provincia che tra maiali, tortellini e tortelli di arbetta, insomma è riuscita a tirarsi su dicendo, facendo, cioè più che altro atteggiandosi sempre alla grandeur, tanto da convincere il mondo di essere un apti capital. Insomma ha convinto tutti con queste sue aree, questa sua vanità, perché i parmigiani poi sono anche noti di essere molto, come si dice, grandi, di essere più grandi di quanto siano poi in realtà. E infatti hanno convinto tutti, hanno convinto il mondo, il mondo intero, persino due come Draghi e Mattarella, che ultimamente sono passati da Parma a omaggiare questa piccola città, proprio loro che sono due che non si lasciano incantare da nessuno. Parma c'è riuscita!